Lorenzo Sospiri, coordinatore provinciale del PDL, è preoccupato per la piega che ha preso la situazione politica al Comune di Montesilvano dopo questa turbolenza sul bilancio oppure Cordoma ha superato brillantemente questa prova? Diciamo che possono parlare i numeri. Allora innanzitutto di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che il Comune di Montesilvano, approvando il consuntivo, ha di fatto certificato l'uscita da un disastro di debiti che le precedenti amministrazioni avevano consegnato, saldando 3 milioni di euro di debiti e avendo un attivo di circa 3 milioni. Al Comune di Montesilvano ci sono credo 30 consiglieri, il bilancio è passato con 18 voti, quindi 3 voti in più della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Pertanto la crisi mi pare immaginaria, la sostanza è che oggi il Comune di Montesilvano ha un bilancio risanato e ci sono soldi per far partire un imponente mole di investimenti. Un assessore e il vice sindaco sono andati via qualche mese fa, c'è questo mal di pancia da parte di qualcun altro in maggioranza, a suo avviso ci sono i presupposti per una verifica, siamo ormai quasi a metà mandato alla ripresa dell'attività a settembre. Ma la faremo, la facciamo in continuazione, io sento tutti, però più che guardare il dito guardiamo la luna, cioè la sintesi è che nel Comune di Montesilvano oggi c'è un bilancio risanato dopo due anni di lavoro e credo che sia questo l'elemento sottolineare. Poi tutte le maggioranze hanno problemi di verifiche quando si hanno a che fare con molte teste e con molti uomini, ma la sostanza è che si lavora per la gente e la gente di Montesilvano oggi ha le casse del proprio Comune risanate. Al Comune di Vescara vedremo cosa accadrà in autunno, ma più in generale sul territorio della provincia questo strappo di fini avrà delle conseguenze sulla tenuta delle maggioranze cittadine guidate dal PDL? Ma al momento questo strappo di fini mi pare più paventato che sostanziale. Io credo che gli impegni siano stati presi con gli elettori e con i cittadini che si amministrano. Chi strappa si assume la responsabilità dello strappo, noi governiamo, mi pare che al di là di qualche presunta crisi giornalistica sia al Comune di Vescara che al Comune di Montesilvano si va avanti nel realizzare gli obiettivi del programma. Se qualcuno vorrà interrompere questo processo se ne assumerà le responsabilità. Noi chiaramente non ci faremo ricattare sotto nessun punto di vista in riferimento agli impegni che abbiamo preso con i cittadini, che sono il nostro elemento fondamentale di verifiche. Grazie. Grazie. Grazie.